I Vescovi Pugliesi hanno espresso con forza la loro posizione riguardo a voci di possibili ulteriori forme di restrizioni anti-Covid nel corso della Settimana Santa. I dettagli nel servizio. I Vescovi Pugliesi non ci stanno e lo dicono a gran voce. Nessuno pensi di chiudere le chiese a Pasqua. In una nota ufficiale firmata dai Vescovi di Puglia, in seguito alle voci su possibili ulteriori restrizioni anti-contagio al vaglio di Regione e Governo e che potrebbero avere ripercussioni anche sulle celebrazioni pasquali, si legge Vogliamo ribadire alle autorità locali e ai fedeli che parteciperanno alle celebrazioni della Settimana Santa che il senso di responsabilità circa le misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 in questi mesi non è mai mancato e non mancherà anche durante questo particolare periodo. Nella nota i Vescovi Pugliesi ricordano non solo che per garantire la sicurezza della salute pubblica e contemporaneamente favorire la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni della Settimana Santa, ogni dioce sia provveduto a emanare propri provvedimenti, ma anche che non sono previste processioni e altre forme di pietà popolare che comportino assembramenti e concentrazione di persone e che l'accesso in chiesa è condizionato all'uso della mascherina, all'igienizzazione delle mani e al controllo della temperatura. Inoltre i posti in chiesa sono distanziati e regolamentati dal servizio d'ordine che non ammette più persone rispetto alla capienza massima definita.